E' il primo stop E' il penultimo episodio del lunedì delle risposte, ce ne sarà un altro registrato qua a Houston il prossimo lunedì, dopodiché andremo a concludere questo progetto, questa avventura lunedì 5 di luglio alle ore 21.15 con una bellissima diretta direttamente dall'Italia dove andrò a rispondere alle vostre domande live, non ci saranno ospiti, sarò solo e dedicherò tutto il tempo, un'ora, un'ora e un quarto a rispondere alle vostre curiosità. Ma iniziamo subito a rispondere alle domande di oggi e visto che sono in auto mi sembra giusto iniziare dalla domanda di Mattia che mi chiede come funziona l'acquisto di un'auto e da Riccardo che mi chiede come funziona il passaggio di proprietà di un'auto. Quindi sono due domande molto simili e visto che sono in auto vado a rispondere. L'acquisto della macchina è molto semplice, prima di tutto si divide ovviamente tra macchina usata e macchina nuova perché la macchina nuova si compra esclusivamente da un concessionario, invece la macchina usata come potete ben sapere si può comprare anche da un privato. L'acquisto della macchina da un concessionario è praticamente uguale all'Italia. L'unica differenza è che se io adesso alle 6 e un quarto vado in un concessionario qua a Houston e ho i soldi in contanti o la carta di credito che copre l'acquisto della macchina, io me ne vado a casa direttamente con la macchina oggi. Quindi la burocrazia è molto più veloce, ovviamente se invece devo chiedere un finanziamento mi servono giusto 2-3 ore in più perché fanno un controllo del credit history e il credit score per vedere che tipo di tasso di interesse mi possono dare e soprattutto se mi possono dare un finanziamento perché se fossi un cattivo pagatore probabilmente non mi darebbero neanche il finanziamento. La cosa è molto diversa tra privati, è molto semplice, è molto veloce, pochissima burocrazia. Una volta che si trova un acquirente, se io sono il venditore, non resta che incontrarsi, far visionare la macchina se piace oppure no, portarsi con te il title che è il titolo di proprietà e all'atto del pagamento non ci resta solamente che firmare il title e darlo al nuovo proprietario. Dopodiché il nuovo proprietario avrà 30 giorni di tempo per andare a registrare l'acquisto della macchina presso gli uffici di competenza. Il notaio non serve, qualcuno lo usa giusto per far certificare la vendita perché in certi casi c'è una procedura che si chiama jumping, saltare, di personaggi, di acquirenti che non vanno a registrare la macchina. Quindi in caso di multe o altre cose da pagare arrivano tutte al vecchio proprietario. Per tutelarsi, oltre a firmare il titolo, si può andare dal notaio che non è il notaio stile italiano, basta andare in una banca, in un ufficio postale, ufficio FedEx, che ci sono degli impiegati che sono certificati notai e praticamente firma un certificato di vendita con un timbro, si paga tipo 10-15 dollari. Molto, molto semplice, la spesa per il passaggio di proprietà dipende dal valore della macchina perché si paga la tassa sulla proprietà e se non sbaglio è 1-75% ma non sono sicuro e probabilmente è anche diversa da stato a stato. Altra domanda coerente con la giornata, visto che sono appena rientrato da una trasferta, Mircom92 mi chiede come funziona lo spostamento all'interno degli Stati Uniti con la green card. Io praticamente la green card l'ho lasciata a casa. Per quando si fanno dei voli domestici o per quando si guida all'interno degli Stati Uniti la green card non serve. L'ID, la patente, che sarebbe la carta d'identità, è più che sufficiente. La green card serve solitamente solamente quando si esce dallo stato, dalla nazione America. Quindi adesso io che verrò in Italia mi dovrò portare la green card con me perché una volta al mio rientro negli Stati Uniti, oltre al mio passaporto italiano, dovrò presentare la green card. che è il permesso di soggiorno che hanno gli immigrati che vivono in Italia. Chiamata green card perché è di colore verde, green è verde, quindi green card, una carta verde perché è di colore verde. Che non è nient'altro che un visto, un permesso di soggiorno che ti permette di essere residente permanentemente e di poter lavorare e avere quasi tutti i diritti dei cittadini americani. È difficile che venga tolta una green card, però nella vita tutto può accadere. Chi si muove all'interno della nazione come un americano, né più né meno. Ma questo anche con gli altri visti, non solo con la green card. Quando tu hai un visto di residenza che sia permanente che sia temporaneo, una volta che ti muovi per gli Stati Uniti basta la carta d'identità, l'ID card, non serve che ti porti il passaporto e il visto con te. Ho rimesso la telecamera dove la prendiamo perché nell'altro angolo della macchina non mi piaceva. Dovevo stare con il collo lungo perché sennò il volante mi copriva. Oggi, senza farlo a caso, ci sono tutte domande inerenti alla macchina, al viaggio. Infatti Matley, postandosi sulla polizia, mi chiede se la polizia abusa un po' dei loro poteri se io ho mai avuto esperienze con la polizia americana. E poi una domanda un po' diversa che se si paga il bollo della macchina. Iniziamo dall'ultima domanda. Il bollo della macchina si paga con l'ispezione annuale. E io mi sembra che ho pagato 67 dollari, ispezione più tasse di proprietà a bollo, queste cose qua. E si paga in Texas dopo due anni se la macchina è acquistata nuova. Invece, passati due anni, allora diventa una cosa annuale. Per quanto riguarda la polizia, io non so se abusa un po' del loro potere oppure no. Quello che posso dire è ovviamente che ci saranno i casi dove abusano del loro potere perché in America ovviamente sui grandi numeri ci sarà qualche poliziotto. Devo dire che loro sono un po' duri perché ovviamente differenza a quello che può succedere in Italia. Qui quando fermi qualcuno, probabilmente il 70% delle volte il conducente macchina è armato. O di un'arma da fuoco o con un'arma da taglio. Te devono stare molto abbottonati, molto attenti perché questa è la realtà americana. Io sono stato fermato tre volte dalla polizia. Tutte e tre le volte sono stato trattato benissimo. L'importante quando fermano è fare quello che ti dicono. Non essere maleducato e rispondere perché mi hai fermato, per cosa vuoi. Non mettere le mani sul volante come è consigliato. La polizia americana ti ferma solo se tu hai qualcosa che non va o hai fatto un'infrazione. Non esiste il posto di blocco all'italiana per controllo, preventivo. Qui ti fermano se hai fatto un'infrazione, eccesso di velocità, non hai fatto uno stop, hai una luce bruciata. Oppure fanno un controllo dalla macchina sulla tua targa e vedono che non hai pagato l'assicurazione. Solo in quei casi ti fermano. Quindi tu sai già che se la polizia ti ferma sei in torto. Per qualche cosa sei in torto. Magari non lo sai neanche per qualche cosa, ma sei in torto. Io dicevo sono stato fermato tre volte, due volte per eccesso di velocità, una volta perché non mi sono fermato allo stop. Tutte e tre le volte non mi è stata data la multa. Io sono stato onesto, ho detto che sono sbagliato. E loro mi hanno dato il warning, praticamente una tirata di orecchie. E mi hanno dato la prossima volta, fai attenzione, il limite di velocità, lo stop e queste cose qua. Però in generale se si è educato, se ci si muove lentamente, si risponde alle domande onestamente, loro sono educati. Poi probabilmente il mio accento stramarcato italiano aiuta, perché capiscono subito che sono uno straniero. Due volte addirittura avevo ancora la patente italiana, era proprio all'inizio che ero qua. Quindi dopo ci siamo messi a parlare di altre cose. Probabilmente aiuta anche questa cosa qua. Però l'educazione e seguire le regole aiuta. E loro se vedono che dall'altra parte c'è una persona che collabora, tante volte chiudono un occhio e ti lasciano andare con una tirata di orecchie. Intanto alla mia destra, downtown Houston, abbiamo un'altra domanda di Lupo, che mi chiede se varrebbe la pena aprire un parrucchiere da uomo. Lupo, chi è una persona sbagliata? Però no, vale la pena in una grande città come Houston? Probabilmente sì. Io ho un amico che lavora nel business dei parrucchieri ma da donna. E lui mi racconta che c'è un giro di soldi grandissimo, perché loro spendono tantissimo, anzi, sì, le donne spendono tantissimi soldi per le acconciature. Un po' come l'Italia, ma qui chi se lo può permettere spende veramente tanti soldi. Centinaia, se non migliaia di dollari ogni volta che vanno dal parrucchiere. Per quanto riguarda l'uomo, Lupo, non sono molto preparato, ovviamente non ci vado mai, però ne vedo in giro. Sicuramente è un po' più allineato con il mercato che c'è anche in Italia. Ovviamente se uno viene e si presenta come stilista italiano in una zona abbastanza ricca della città, probabilmente può avere successo. Vicino allo stadio da baseball c'è un po' di traffico perché c'è la partita. Qua c'è l'uscita per lo stadio, che è quello lì. A McLaren ragazzi, ultima domanda della giornata me la fa Matley, che mi chiede se in America si mangia la carne di cavallo. Io personalmente non l'ho mai trovata e credo che nessuno mangi carne di cavallo o di asino qui in America, soprattutto in Texas. Io in Italia ogni tanto la mangio, mi piace. Qui invece se tu dici all'americano che mangi il cavallo, ti guarda con gli oschi che gli escono fuori dalle orbite per dire ma cosa stai dicendo? What are you doing? Are you kidding me? Perché è una cosa che non fa parte della loro cultura, essendo comunque il cavallo e l'asino degli animali da lavoro. Downtown l'ho passata abbastanza agevolmente, 3-4 minuti di traffico. Adesso qui è molto ma molto più scorrevole. Prima di concludere volevo dirvi che ho raggiunto un milione di visualizzazioni sul canale. Numero astronomico, numero grandissimo. Un milione di visualizzazioni. Non avrei mai pensato di raggiungere questo punto, questo obiettivo. Come vi ho detto all'inizio, questo è il penultimo episodio. Abbiamo ancora un episodio registrato più la live del 5 di luglio direttamente dall'Italia alle 21.15. Quindi se avete qualche altra domanda, qualche altra curiosità, non siate timidi, lasciate nei commenti e io vi risponderò. Visto che abbiamo raggiunto un milione di view, mettete tanti like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, condividete sui vostri social i miei video e parlate dei vostri amici. Grazie di tutto, da Houston è tutto, passo e chiudo. Ciao.